Sindaco avete censito, vi siete resi conto che la situazione è molto difficile e adesso che cosa fare? Adesso abbiamo bisogno che qualcuno ci dia per cominciare un milione di euro per i lavori che abbiamo già fatto questa settimana ma da troppo i cittadini hanno visto come i candidati in una settimana della città dopo il disastro. Poi la ricostruzione, i danni accettati, i signori di comuni sono 7 milioni e mezzo. Poi ci sono i danni elettorati, ci sono tutti in qualche maniera pubblici da tenermi a conto. Insomma ho la ricostruzione Piemonte, si rende conto appunto della necessità di stabilire lo stato di emergenza e di permetterci di avere in qualche maniera di introito.